Questo è lo sport che ci piace? Potrebbe essere una domanda, sicuramente retorica o piuttosto un claim, per veicolare i valori come inclusione, rispetto e amicizia che sono emersi durante la presentazione ufficiale e congiunta delle squadre di basket Onda Tel Virtus Matera e Basilia Basket Potenza. Un'occasione la presentazione è tenutasi oggi 9 ottobre nella casa BCC Basilicata per discutere di programmi e progetti, ma soprattutto di sport, quello sano, che deve veicolare messaggi importanti e creare senso di comunità. E' quello che poi lo sport ci insegna, è l'unione, l'unione di squadra, l'unione che fa la forza e quindi oggi, grazie alla BCC Basilicata, siamo qui a Potenza a rappresentare entrambe le squadre, una maschile e una femminile, una bella esperienza. Era una cosa che veramente volevamo da tantissimi anni, non c'è stata mai un'occasione bella, adesso abbiamo trovato un grande connubio per cui per noi, dal momento che siamo lucani, dal momento che amiamo la nostra terra, allora è giusto che ci sia questa bellissima sinergia fra Potenza e Matera, perché tutti e due apparteniamo ad un territorio meraviglioso che è appunto la Lucania. Sono due squadre giovani, molto motivate e noi da sempre promuoviamo il benessere psicofisico che passa anche e soprattutto dallo sport, quindi sicuramente siamo in prima linea nel supportare la Virtus e anche il Basilia Basket in questa avventura. Tra l'altro, ripeto, sono molto giovani, molto motivati e puntiamo obiettivi molto elevati quest'anno. Direi un bel connubio tra Potenza e Matera, che serve anche sotto il profilo sportivo un po' ad unificare questa nostra regione e queste due province, superando anche rivalità e campanilismi. Ritengo che in questo modo BCC Basilicata svolga pieno il suo ruolo di banca del territorio, di banca che è espressione della comunità e dimostra di essere accanto alle realtà sociali che il territorio esprime, dalle associazioni di volontariato del settore che io amo definire civile piuttosto che terzo e accanto alle associazioni e alle società sportive che si occupano del benessere psicofisico dei nostri giovani. La banca ha ottenuto risultati eccellenti grazie allo sviluppo su tutta la regione e anche alla sede di staccata di Matera. Noi abbiamo un nome regionale ma abbiamo filiali in tutta la regione e vogliamo uscire da questa dicotomia Potenza Matera e la dimostrazione è che abbiamo le filiali più importanti a Potenza e a Matera e siamo parte sia di una squadra maschile di basket di Matera che di una squadra femminile di basket a Potenza che oggi si uniscono sotto questo cappello dando vita a un'iniziativa davvero, non dico unica, ma interessantissima che vede uscire dai confini micro che noi abbiamo dal particolare di quei ciardini di cui noi italiani purtroppo siamo negativamente protagonisti a un pensiero più ampio che un pensiero regionale.